Non si fermano all'alto intimato dei carabinieri impegnati in un posto di controllo a Castellaneta. Ne scaturisce un inseguimento a bordo dell'auto di grossa cilindrata due uomini. Durante la corsa tra le vie cittadine sono stati lanciati dai finestrini alcuni involucri. Nonostante il tentativo di esiminare la gazzella dell'arma con manovre pericolose, i militari sono riusciti a arrestare la corsa dell'auto per poi procedere all'arresto delle occupanti. Un 53enne di Ginose e un 23enne di La Terza. L'importante operazione di servizio ha consentito il sequestro di 40 grammi di cocaina che messa sul mercato avrebbe potuto portare a un guadagno di circa 2.500 euro ed una somma in denaro contante di 1.500 euro ritenute il prevento della presunta attività delittuosa. Il brillante risultato operativo è il frutto dell'opera di prevenzione espressa quotidianamente sul territorio da parte dell'arma dei carabinieri grazie a pattuglie che presidiano il territorio H24 anche nelle aree più impervie. La sostanza stupefacente divisa in ben 57 dosi è stata inviata al laboratorio analisi del comando provinciale carabinieri di Taranto per i successivi accertamenti. Gli arrestati fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva sono stati condotti presso i propri domicili dove permarranno in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.